Grazie, grazie davvero. Pistoia è al penultimo posto in Toscana per numero di fabbricati di edilizia popolare, mentre i provvedimenti di sfratto aumentano. Nel 2012 sono stati emessi 523 provvedimenti, di cui eseguiti 231. Per questo la Fondazione Caripit, con la collaborazione della Caritas Diocesana e della cooperativa Amicizia 2000, ha presentato due nuovi progetti per sostenere le famiglie che vengono a trovarsi, loro malgrado, in situazioni di disagio abitativo. Il primo si chiama Sfratto, no grazie, e cerca di prevenire lo sfratto offrendo alle famiglie un contributo fino al 50% dell'affitto per un periodo massimo di uno o due trimestri. La Fondazione ha costituito un fondo di 50.000 euro, che sarà la Caritas Diocesana, che meglio conosce i casi di famiglie in effettivo bisogno a gestire. Di prendere il problema un pochino più a monte, per vedere se riusciamo a sostenere le famiglie in alcuni passaggi, naturalmente temporanei. Quindi noi prevediamo questo sostegno per un massimo di sei mesi, per un periodo, diciamo, limitato, ma che consenta di superare un momento di particolare difficoltà, che può provocare quella che si chiama l'amorosità involontaria, cioè non legata a comportamenti delle persone. Il progetto Welcome, invece, è rivolto alle situazioni di sfratto esecutivo già emesso. La Fondazione mette a disposizione tre appartamenti, uno in via Desideri, uno in via Valiani e uno in via Vecchio Oliveto a Pistoia, che saranno consegnati a nuclei familiari. In questo caso noi abbiamo a disposizione tre appartamenti in tre luoghi diversi, perché non vogliamo creare ghetti, diciamo, di situazioni di bisogno, e li mettiamo a disposizione gratuitamente delle famiglie che si trovano in difficoltà. Anche qui per un periodo naturalmente limitato, di sei mesi più altri quattro, quindi un massimo di dieci, curando poi che in questo intervallo le famiglie possano provvedere in qualche modo a risolvere il problema, in modo da liberare questi locali per altre esigenze e necessità. Infine, ultima ma non meno importante iniziativa riguarda la borsa di studio VAR di Ivana, che dà sostegno agli studenti che si sono distinti a scuola, ma che si trovano privi di mezzi economici. Saranno erogate 35 borse di studio, anche qui collabora la Caritas Diocesana. Grazie.